Consiglio regionale delle Marche, convocato dal Presidente Dino Latini per martedì 18 e mercoledì 19 gennaio. All'ordine del giorno una modifica allo Statuto regionale, che ha già ottenuto il via libera lo scorso novembre e che ora torna in aula per la seconda approvazione, così come previsto dall'articolo 123 della Costituzione italiana. Tecnicamente nella riformulazione dell'articolo 21 dello Statuto è previsto che il Consiglio approva proposta di legge da inviare alle Camere invece che al Parlamento, come precedentemente indicato. Relatori Chiara Biondi per la maggioranza e Fabrizio Cesetti per l'opposizione. A seguire in ambe due le giornate l'esame di numerose interrogazioni e mozioni. Si ricorda che è possibile seguire i lavori del Consiglio regionale delle Marche via web collegandosi al sito istituzionale.